Ben ritrovati a tutti, nuovo appuntamento serale con il commento di chiusura sui mercati azionari del Vecchio Continente, tra pochi istanti andremo a vedere tutto ciò che è successo oggi, mercoledì 19 marzo 2014, sui listini finanziari europei. È stata una chiusura poco mossa, quella odierna sui listini azionari del Vecchio Continente, la cui attesa è oramai tutta rivolta alle decisioni che verranno prese tra poche ore dalla Fed, che dovrebbe ridurre di ulteriori 10 miliardi il piano di stimoli monetari passando dai 65 attuali ai 55 miliardi di dollari al mese e le attese e le maggiore attenzioni da parte degli operatori saranno riservate ai nuovi obiettivi che la Banca Centrale Statunitense intende raggiungere per e controllare la ripresa non solo in tema di inflazione ma anche di mercato e del lavoro. Sullo sfondo ricordo sempre che rimangono presenti timori geopolitici in arrivo da Ucraina e Russia, mentre alcune news negative continuano ad arrivare dalla Cina che ha visto fallire andare in default una società del settore immobiliare. Sul mercato dei governativi tornano a scendere gli spread con ormai il BTP Bund che si avvia a testare i minimi di periodo posizionati in area 170-185 punti base. Sul valutario in attesa della Fed continua l'onda lunga, l'onda rialzista dell'Euro che nei confronti del dollaro passa di mano in area 1,396, viene quindi confermata una tendenza di fondo rialzista al ribasso, primi segnali di incertezza si avrebbero solamente con il ritorno dei prezzi sotto le extra resistenze posizionati in area 1,38. Dopo gli acquisti delle ultime giornate, chiusura in leggero terreno negativo per Piazza Affari, le cui quotazioni continuano a essere nei prezzi di area 21 mila punti e con il break di questi livelli, con il superamento di questi livelli, il Fuzzimib invierebbe un nuovo segnale di forza ricordando che avremo un primo target posizionato in area 21.250-21.300, dove l'indice andrebbe a coprire un gap down lasciato aperto nel mese di maggio 2011 e a seguire 21.600 punti. Tra i titoli che durante la giornata hanno inviato dei segnali interessanti, andremo subito a vederli, c'è il titolo Banca Popolare Etruria e Lazio che in attesa di possibile news in arrivo e da parte dell'Europolare di Vicenza continua la sua ripresa dei corsi azionari con i prezzi che superano i massimi delle ultime sedute posizionati in area 0,815, inviando un nuovo segnale di forza con prossimi target posizionati in area 0,87 e 5. Siamo quasi giunti al termine del nostro solito incontro giornaliero per quanto riguarda il riassunto della giornata di borsa. Ricordo per chi fosse interessato al servizio di report di segnali operativi basta consultare la pagina di Trendolan nella sezione premium dove viene chiarito e come viene svolto il servizio di report e di segnali operativo. All'interno della stessa pagina troverete anche lo storico delle operazioni, la performance attuale che vede il nostro portafoglio in gay nello spazio di oltre due mesi e mezzo del 18% rispetto a un indice mid cap in guadagno del 10 vir con la 22%. Siamo giunti quindi al termine del nostro consueto incontro selare, l'appuntamento come al solito e per domani quando avremo davanti tutte le decisioni che verranno presse alla fette capaci di gestire, capaci di indirizzare il trend delle prossime sedute sui mercati finanziari internazionali. Come al solito buona serata a tutti e buon trading.